Pantozzi, che aveva promesso alla pina di perdere con lo sci almeno 5 chili, decise per il dimagrimento alternativo. Si fece ricoverare nella modernissima clinica locale per seguire la famosa dieta del professor Birker Mayer, dell'Università di Iena. Condici! 182! E' molto carino qui, e poi allegro, mi piace. E' molto che avete aperto qui questa, 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 ma com'è? Fame! Ma cosa? Ma dove mi hai portato? Di nuovo, professor Birker? Benvenuto nella sua nuova timora. Grazie, professor Birkin. Birker Mayer! Bir, Birker Mayer. Mi scusi, professor Birker Mayer, dato che non ho ancora fatto colazione, cosa consiste la dieta qui? Niente, venti giorni di ticciuno assoluto. Niente mangiare, niente perdo. Ma come? Niente mangiare? Scusi, professor Birker Mayer, ma allora il cessetto lì, a cosa serve? Al sesto giorno di cura, Fantozzi era allo stremo. E tu, Mattia, spacchetti, pappi neri? Come va? E' bene, professor. Da quando tu non mangi più spacchetti? Io... io non me lo ricordo più. Sei giorni? Sei molto bravissimo. Per fare buona cura occorre grande forza di volontà. Va bene, professore. Chi non tiene volontà... Tu guardi? Per sviluppare grande forza di volontà, invito tutte le sere un tuo camerato a mia cena. Che faccio? Io mangio. Lui guarda. Lui guarda, io mangio. Chi tocca il cibo, capuzzi? Lui non resistito. Rubato e mangiato piccola minuzzola di pane da mia tovaglia. Sì, però ho visto. Insomma. Vuole tu essere mio ospite questa sera? Io la ringrazio, professore, ma questa sera ho mezzo impegno con la mia zia. Tu scrivi il suo nome. Come il nome? Quale nome scrive? No, guardi che non... Non voglio il nome. Come sia? Professore. Vieni bene. Sei tutto? Precos, è tutto? Ecco, ecco. Dove tu siete? E dove mi ha detto? Qua! Perché mi ha detto? Lei mi ha detto. Qui, eh? Ecco. Cos'abbiamo di buono questa sera? Cosa c'è di buono? Polpette di pavaria. Cuore di patata, farina, aromi. Peccato tu non puole mangiare. Quattro tipi di carne, prosciutto, formaggio, uova. Tu ricordi, tua camerata, che ha mangiato? Un po'. Un po'. Tenera. Si scioglie nella bocca. Ah. Guarda. Un po' coni, un popetto. Un popetto. Un bicchiere di vino. Divino del re. Della valle di Reno. Un po' coni, un po' coni, un po' coni, un po' coni. Prendi che... Prendi che... Tu mancia! No, 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 no. Tu mancia! Infermieri! Infermieri! Lui mancia! Lui mancia tutto! Lui mancia!